Grazie. 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 Che idea si fa? Per forza, non può mica pensare che stasera si decida. Questo per forza. Decideremo le questioni iniziali, come al solito, la missione delle prove, eccetera, e poi ci sarà un calendario. Grazie. C'è una trattoria qui dietro. Questa è la speranza di cosa? Noi abbiamo scelto una linea, io e l'Avvocato Capra, che è quella di dare spazio al processo. Dichiarazioni ne sono state fatte in questi mesi, ora è finito il tempo delle dichiarazioni, comincia il tempo di affrontare nella massima serenità possibile il processo. per cui noi sappiamo che il vostro ruolo è importante, però riuscirete, vedendo le udienze, a capire quello che succede.